Le occasioni emergono delle considerazioni... C'è anche un gol in fuorigioco, quello di Miccoli, va bene, ma tanto... Sì, sì, d'accordo. Però, come sai, il Palermo ha fatto il bello e il cattivo tempo nell'area della Lazio e a me particolarmente è stupito questo atteggiamento di un leader l'anno scorso, della difesa, che è Dias. Che cosa è successo al brasiliano? Guarda, te lo spiego subito. Dias lo conosco bene. Dias sta male ancora. Dias si era appena ripreso da un infortunio e si vede che non è sicuro. Tra l'altro sbattuto a destra sulla fascia. Che cosa poteva fare? Poi, quando Dias non si sente bene, arriva in ritardo negli interventi, eccetera, diventa anche nervoso. Questo è il suo carattere. Quindi su Dias possiamo dare chiaramente un voto negativo, ma sappiamo che cos'ha. Il problema, probabilmente, se proprio dobbiamo fare un'analisi un po' più tecnica, è che, portando, come fece già contro il Cesena, in una situazione disperata, diciamo, no? Ricorderai la rimonta di tre gol, poi, sul 2-0 iniziale in dieci uomini, lui piattò Ledesma come centrale di difesa, mettendo una difesa a tre per inferiorità numerica rispetto all'avversario. Sì, in effetti è vero, però... Però si trattava del Cesena e non del Palermo, che è in casa e non piaccia tassi. Però, con questa mozza, partendo con questa mozza fin dall'inizio, lui ha tolto una cerniera a centrocampo, che è quella di Ledesma, e l'ha arretrata di 10 metri, quel tanto che basta perché il centrocampo non facesse più nessun filtro. Tra l'altro, io non ho mai visto giocare insieme Zauri, Ledesma e Diaz dal primo minuto, quindi c'erano anche dei movimenti che non venivano fatti in sincronia. Ecco, ma a questo punto viene logico pensare... A centrocampo non c'era nessun interditore, quel poco che ha fatto l'ha fatto Gonzales sulla destra, ma Candreva non è un perditore, ma Dusalem meno di Ledesma sicuramente, e Lulic ancora meno, quindi, insomma, è chiaro che potevano passare tutti i tiri anche da fuori. Ecco, Alessandro, ma alla luce di quello che tu stai precisando, non ti sembra che sia in totale confusione un allenatore assolutamente rispettabile nella sua esperienza, nel suo carisma, ma a questo punto manca la mentalità vincente che questa squadra dovrebbe avere. No, 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 guarda, no. Mi auguro che... Mi auguro che non vi siano delle spinte inconsce, un corso, e questo io non voglio fare adesso l'opsiconalista da strapazzo. Però, insomma, sai, magari l'allenatore si sentiva quest'anno di avere una squadra forte, che comunque poteva essere ulteriormente aggiustata a gennaio, non gli sono arrivati i ricambi giusti, in più è falcidiata da infortuni in serie, soprattutto adesso in difesa, perché stanno rientrando. Sì, ieri abbiamo apprezzato il rientro di Mauri, ma in quella zona lui è coperto, e quindi forse magari ha marcato un po' la mano su questa emergenza, facendo vedere i limiti di questa squadra, a cui non è stato dato nessun aiuto, se non addirittura la sopprazione di scuoli in sede di mercato. Ecco, perché parlavo di chiarire i rapporti tra società e tecnico, che mi sembra in questo momento non c'hanno idillia, ci ho anche visto alcune dichiarazioni in conferenza stampa, eccetera. Poi sai, qui a Roma, voi siete fuori, ma qui dentro al raccordo murale, tu sai qual è la situazione? Ci sei stato tanto tempo, Giulio. Poi cominciano, allora è colpa dell'allenatore, allora è colpa della società, allora si crea l'alibi per i calciatori, allora è colpa dei calciatori, cioè non se ne esce mai, però Alessandro, certo c'è un problema in più da ieri sera, cioè che questa Lazio nel giro di pochi giorni innanzitutto ha, come dire, buttato via l'occasione di arrivare fino in fondo ad una competizione alla quale l'Otito, il Presidente, ma direi in generale di tutta la società, teneva moltissimo. E come? Lo vedi da come era stato fatto il mercato? Ecco, ne avevamo parlato, infatti, ne avevamo parlato con te, cioè di un mercato fatto proprio per acquistare giocatori di esperienza, come si sa che comunque è andato via come close per giocarsi delle carte importanti in Europa League. E ieri, onestamente, Lazio ha dato prova forse di non poter gestire un terzo posto. Guardando la classifica, c'è il ritorno, chiaramente bisogna anche verificare adesso la tenuta di Roma e Napoli, però mi sembra di vedere delle possibilità da parte anche di Roma e Napoli che non sono poi così lontane, al di là dell'appandamento di Udinese. Ci devi mettere Udinese e Inter, perché è un campionato strano, come vedi, perché ci sono successi e poi confitte, successi e poi confitte, anche là in alto si sono fermati per qualche turno, però è vero che se torniamo a fare il paragone qui dentro la città, Lazio e Roma nelle ultime due partite hanno fatto gli stessi punti, per cui c'è una discontinuità che è noti tra queste due squadre per quanto riguarda la Roma che ho seguito anche ultimamente perché mi interessa di parte di generale non solo della Lazio. Però forse la Roma sta arrivando meglio a questo derby? Se continuasse a giocare dove pure non ha brillato, se dovesse continuare a giocare come ieri, dove pure non ha brillato i tifosi sono stati in apprezzione fino all'ultimo e un possibile pareggio del Parma che appariva comunque introbabile perché ha fatto poco e ci arriverebbe sicuramente meglio. Però manca ancora il turno con la Fiorentina dove la Lazio sarà ancora più penalizzata perché poi vorrei aggiungere una parola su De Marco. De Marco che ieri non ha usato il voltenzo come facevano notare anche Cesare e Medi ha detto insomma non si va a destelle dell'allenatore perché sta facendo veramente quattro chiacchiere. Da sé che gli stessi giocatori del Palermo hanno detto no, ma che cosa fa? Insomma, c'è stato proprio il labiale che si dice chiaramente c'era Migliaccio c'era un altro non so se è donato sì, sì, però Alessandro al di là di tanti dettagli anche l'infozione di Dier insomma tutto molto sì, forse è eccessiva perché sì, sul 5-0 in effetti certi cartellini rossi potrebbero essere evitati non era cattivo l'intervento di Dier i giocatori del Palermo che si mettono a fare i giochetti sulla linea sì, sì è vero è vero 5-0 è un cavo io ricordo ricordo un Fiorentina-Roma 3-0 con la Roma in 9 e Deglio Rossi in maniera molto sportiva appena arrivato a Firenze invitò i suoi giocatori comunque a non è chiaro ecco a fondare il dito nella piaga è chiaro questo si fa questo si fa spesso questo è una cosa che fa capo al fair play non scritto che però